Una maglia tricolore, gioia immensa, ma come è stata la prova? È stata emozionante, hai detto bene, una maglia tricolore che in qualsiasi disciplina, su pista, è comunque per me la bandiera più bella del mondo e portarla per me è un grande onore e sono onorata di avere disputato questa prova con Cristian perché sia lui che tutta la sua famiglia portano per me in alto la tradizione del Derni, non solo a livello nazionale ma a livello mondiale. Nel finale gli attacchi, come hai reagito? Sicuramente il bello del Derni è dare un po' di spettacolo e perché no qualche volta anche gli imprevisti, però ripeto devo tanto a Cristian perché mi ha guidato davvero alla grande. Cristian Dagnoni, maglia tricolore, Derni a Pordenone, ma una domanda subito su che atleta è Alcini? Martina è una grande atleta, io la conosco sin da quando era bambina, è sempre andata forte e adesso lo sta dimostrando, anche in età più matura comunque sta dimostrando di essere sempre grande. E quando sta sulla scia del Derni per le altre? No, lei è una vera fuoriclasse, il Derni come si suol dire pennella il parafango posteriore, quindi ero tranquillo di avere un atleta così di dietro, di guidarla in una buona gara oggi per arrivare alla vittoria. Grazie. Grazie.